Ciao a tutti ragazzi Non ho avuto più voce quando ho detto bella Ok, è già partita bene questa presentazione del canale E niente, questa è la nostra presentazione del canale Perché avremo un canale due due insieme E adesso vi presenteremo più o meno cosa faremo durante la nostra avvia Esatto, tra l'altro, subitemi sul mio canale YouTube Mi chiamo Jackofficial, esplodatevolo E niente, iniziamo comunque Iniziamo con questa presentazione del canale Quanto come si chiama? Il nome ci fa un po' schiantare delle risate perché si chiama Rappo Baby E so, so che è banale Però potrebbe avere un senso Perché è tipo l'unione dei nostri nomi Quindi non vi fate domande Poi nel dubbio lo cambieremo in futuro Tra l'altro noi stiamo registrando nella cuscina di Raffa Cioè, ora che bello Quante cose belle Abbiamo improvvisato Guarda la qualità del video Cazzo Perfetta, cazzo Tipo, troviamo uno sfondo Perfetto Andiamo Andiamo Comunque, invitiamo con questa presentazione Perché se no non si finisce più Diciamo La presentazione del canale è due Allora, noi portiamo dei video vlog Magari dovessere mangiare Fare i cretini Ma anche se senza registrare Siamo cretini Quindi figurati se registriamo Cioè, basta seguici su Instagram E guardare le nostre storie Come disputano le nostre storie Che fanno veramente pena Ho solo i miei ttok su Ah, io ho il vero Io ho iniziato a fare ttok Adesso mi sono fatto ttok E io le ho fattene per te Quindi, cazzo, mi voglio lamentare Sì, è vero, sti cazzi E quindi Potrete anche me Un cretino me Su ttok Esatto E poi dati che su uno dei nostri testi Ci sarà il tag di Instagram E seguiteci Perché ci dovete seguire per forza Cioè, senza niente Senza ma Scusate E lasciate anche un mi piace Eh, sì, bravo Lasciate anche un mi piace D'obbligo E poi In questo canale Porteremo anche Non solo video vlog Ma anche magari Video Game gaming O challenge Gaming Sarà divertente Challenge Ma non giochi tipo Troppo sotticati Di dire no Cazzoni Sì, infatti Giochi che si trovano su Steam A 10 euro Che ci piacciono Si dica No, 10 euro Sono scentesi Alla faccia 10 centessimi Se no, non va a me No, io a te Sei proprio un braccio Morto Sì, sono genumese Sottirci E poi fai La genumese Se ho scoperto D'otto giorni Ah Ecco perché c'ho un braccio Ok, buono a sapersi Ma no, no, veramente La presentazione del canale È abbastanza ritandata Cioè, da questa presentazione Del canale Potete capire Che personaggi siamo E che cosa vedrete Se seguite questo canale Perché ne vedete Veramente delle belle E' bello Perché noi dobbiamo Vedere un copriere Da qualche parte Ma non ci abbiamo un calzo Abbiamo fatto tutto E poi sarà detto C'è la fotocamera Perfetto Tanti si dice Niente Abbiamo improvvisato Non è come molti youtuber Magari fanno dei video Che hanno un copione scritto E loro lo seguono Noi semplicemente 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 Noi si mette la fotocamera lì Come in questo momento Con la tutta qua dietro Esatto Non è che si sta nemmeno Tanto a vedere Come una mela Posso staccare amorso? Stai qua? Sì Dicevamo Noi si mette Nelamente la fotocamera lì E si inizia a registrare Quello che ci passa per la mente Esatto E si fa quello che ci si passa per la mente I video da gaming Saranno molto belli Vedrete Le capo Vi dico solo queste Boh si inizia a fare Il gameplay Su Discreepist E è bello Però è un fumo gioco Ma sti cazzi Io si Ho fatto il tutorial E basta Io sono bastanza scarso E beh comunque Niente Questa è la nostra presentazione Del canale Anche se tipo Abbiamo già scazzato Nel primo video Non si riesce a stare serie Come fate da seguirci Non lo so Però dai provateci Che mi vedete delle belle Io sto facendo la presentazione Del canale con una mera Ti ho detto tutto Dunque questa è la nostra presentazione Del canale Io spero che vi sia piaciuta Registeremo subito Un altro video dopo di questo Perché almeno Ne posteremo subito un altro Esatto E niente Spero che vi sia piaciuta Questa presentazione Del canale Stata abbastanza Però lei va bene Ma le Esatto E noi ci vediamo Un prossimo video Bella Bella